Musica Ben ritrovati al TGLIS della Giunta Regionale di Basilicata. È stato presentato a Matera il progetto della nuova stazione elaborato dall'architetto Stefano Boeri. Il progetto è stato commissionato dalle FAL e finanziato dalla Regione Basilicata attraverso il PORFESR 2014-2020 per un importo complessivo pari a 16 milioni di euro. I lavori inizieranno a giugno prossimo e termineranno a dicembre 2018. La fase 2, invece, partirà a gennaio 2019 per concludersi a maggio dello stesso anno. Il presidente Pittella ha espresso enorme soddisfazione per un progetto straordinario per la città di Matera. È l'ennesima dimostrazione di una politica del fare. Un investimento di 24 milioni di euro in buona parte fondi regionali, 44 posti letto dedicati ed 8 sale operatorie. Sono i numeri del nuovo Trauma Center dell'ospedale San Carlo, il cui progetto è stato presentato a Potenza. Nel Trauma Center che ci apprestiamo a realizzare, ha affermato il presidente della Regione, Marcello Pittella, si concentrerà nell'assistere i pazienti, soprattutto in sicurezza. La realizzazione del nuovo padiglione rientra in un programma più complessivo di mitigazione del rischio sismico. È stato pubblicato l'avviso pubblico per l'assegnazione di contributi finanziari a favore dei comuni per la realizzazione o l'ampliamento di centri comunali di raccolta, a supporto della raccolta differenziata. La realizzazione dei centri consentirà di incrementare la raccolta differenziata ai fini di un corretto recupero dei rifiuti solidi urbani. Il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi di provenienza domestica, evitando l'abbandono incontrollato. Il corretto conferimento dei rifiuti ingombranti e delle apparecchiature elettriche. Di ridurre la quantità dei rifiuti. Ripartire dalle scuole agrarie è decisivo oggi per tutelare le nostre tipicità. L'equazione è quella di avere cibo sicuro e che fa bene alla salute utilizzando la tecnologia e l'innovazione. Lo ha dichiarato l'assessore alle politiche agricole e forestali Luca Braia nella giornata regionale della biodiversità agricola e alimentare svoltasi presso l'Istituto Agrario di Marconia. L'agricoltura del futuro, ha detto Braia, è quella che saprà rispettare l'ambiente e recuperare le nostre tradizioni innovando. Alla luce del dibattito pubblico di questi giorni ritengo quanto mai urgente che i governatori del Mezzogiorno, con una voce sola, richiedano politiche specifiche e rivendichino un'attenzione che il futuro governo non contempla. È l'esortazione rivolta dal presidente della regione basilicata, Marcello Pittella, ai governatori meridionali attraverso una lettera inviata loro. Un'azione comune, scrive Pittella, è la strada da percorrere. E questa mia vuole essere un invito a concordare insieme, una data a breve, per un incontro dedicato alle azioni da intraprendere. Infatti è inaccettabile che il contratto Lega-Movimento 5 Stelle non preveda alcuna politica specifica per il meridione. Ed è tutto. Grazie per averci seguito.